Inizia anche ad avere una valenza particolare quella della strada, proprio nell'ottica della macro-regione, il fatto che le due realtà che stanno collaborando su tanti fronti che riguardano la sanità e i servizi, avere anche infrastrutture che ci collegano meglio, semplificano, facilitano, rendono anche più chiaro il progetto che stiamo portando a mano. E dentro una strada ci sono tante cose, sappiamo c'è lo sviluppo, c'è la crescita, c'è la vicinanza del turismo, noi ci possiamo aggiungere un tema di tipo amministrativo, ci sono due regioni che collaborano. Grazie.